Sarà quindi Portogallo contro Italia la finale dell'Europeo Under 17 che si sta disputando a Cipro, dopo che appunto gli azzurrini hanno vinto per 1-0 contro la Danimarca. Ma devo dire che come partita è stata veramente tanto squilibrata, in primis perché l'Italia ha fondamentalmente incontrato la nazionale peggiore, ma non nel senso della più pericolosa, però veramente secondo me mi spiace dirlo perché sono molto fan dei campionati scandinavi, dei giocatori scandinavi, ma devo dire che questa nazionale danese è veramente di basso livello. Perché comunque ogni partita l'ha improntata in un discorso difensivo, fare completamente una muraglia stile Bruce d'Orton in difesa, se non peggio, veramente un bus a due piani, una linea di 6-7 giocatori, la punta che ti fa addirittura il mediano in fase di pressing, e veramente che era atta, diciamo così, a rompere il gioco avversario, o quantomeno a contenerlo. Le occasioni offensive veramente poche e soltanto gli ultimi minuti addirittura la nazionale italiana ha rischiato di prendere il gol del pareggio, perché ripeto, la nazionale italiana ha disputato un'ottima partita, ma veramente tanti, tanti, troppi gol mangiati. Questa volta Camarda è stato più al servizio della squadra, allargandosi, facendo un pochino il centro avanti boa, arretrando, smistrando un pochino il pallone, però anche lui deve migliorare in questa giocata, perché ogni volta parte sul centro sinistro d'attacco, entra sul destro e tenta la conclusione molto spesso sul primo palo. Molte volte questa giocata gli è stata proibita, diciamo così, di difensore danesi. E dopo veramente, al di là di tutto, un secondo gol veramente mangiato, in primis liberali nel primo tempo. No, forse lo stesso Camarda, lo stesso Camarda gli ha fatto un tiro sul primo palo del portiere danese, che si è steso bene, per l'amor di Dio, però veramente davanti alla porta, quando è così tante occasioni, se la partita finisce per 1-0, non si può soltanto dar merito all'avversario. Bisogna darlo al giusto peso, diciamo così, ma altrimenti tu, se concludi una partita così, 1-0, vuol dire che i gol ti sei mangiati. Coletta, nel fine di partita, verso il 91-92, si è mangiato il gol del definitivo KO, perché davanti al portiere danese l'ha buttata fuori, una delle tante occasioni. Poi molti tiri, anche dai limiti dell'area, o poco fuori, i difensori danesi spingevano. Insomma, veramente la rimarca ha fatto una fase difensiva degna di una squadra di Serie D che incontra il Manchester United, ma comunque un'Italia che, ripeto, davanti a una nazionale che comunque ti ha concesso poco, non hai saputo far valere il tuo gioco. Ed è questo il punto fondamentale. Sotto uno dei video della Nazione Italiana, qualcuno mi ha scritto, eh, ma se è severo, perché sono giocatori giovani, è vero, è vero. Io sono d'accordissimo con voi, io mi riconosco di essere un rompiballe, di essere molte volte severo. Ma io faccio il ragionamento di un allenatore, tendo a seguire quello come filosofia di gioco, non mi baso soltanto sul fatto, eh, vabbè, ma abbiamo vinto, quindi bene così. Perché bisogna guardare al di là del risultato. Perché magari con la Danimarca è andata bene in questo modo, ma col Portogallo, che, ripeto, ha recuperato tre gol in mezz'ora alla Serbia, una Serbia che, per l'amor di Dio, difensivamente è quello che è, ma dalla cintola in su è tanta roba, il Portogallo ha recuperato tre gol e ha Rodrigo Mota che is on fire, o meglio, Rodrigo Mota is on fire, ma, tolto questo inglesismo, bisogna dire che il Portogallo ha fatto un'ottima rimonta contro la Serbia e quindi col Portogallo, a certe occasioni, l'Italia deve eventualmente sfruttarle. Perché comunque un Portogallo che ti ha fatto quella rimonta, non bisogna prenderlo sotto gamba, anzi, è un Portogallo cinico, che sta in partita, che sa sfruttare bene i momenti della squadra avversaria, intendo quelli magari un po' più di debolezza, e che sa affondare il colpo. Quindi è questo il punto sul quale lavorare. A livello tecnico va bene, i giocatori interessanti ci stanno. Poi nel video del pomeriggio dove ho parlato dell'Under 23 del Milan, ad esempio non vi ho citato Sala, ma comunque non l'ho fatto volutamente, semplicemente perché è un giocatore tanto talentuoso, un ottimo giocatore, che si è ritagliato un ottimo spazio nel Milan Primavera, in quest'annata, essendo un 2007, quindi uno della stessa annata di Liberali, quindi sotto età per la Primavera, ma appunto perché è un 2007, e è in un ruolo molto cruciale rispetto a quelli di Liberali, e Sala secondo me deve ancora un pochino guadagnare in personalità, ecco, con questi giocatori tu devi assolutamente chiudere la partita prima. Perché tu ripeto, hai Liberali, hai Mosconi, hai Sala, hai Coletta, hai davanti Camarda, quindi deve contro il Portogallo l'Italia far fruttare tutte le potenziali occasioni da gol, non dico tutte, è impossibile tutte, ma è una buona percentuale, perché oggi l'Italia avrà concluso in porta una quindicina di volte, gli importa una quindicina di volte, ma ha fatto un gol solo, e bisogna calcolare appunto questa cosa, poi ripeto, sono giovani, potranno crescere, ma da adesso si pongono le basi, bisogna dare un inizio di gestione della partita e di gestione del momento, perché ripeto, la remarca non ha dato un minimo pensiero offensivo, difensivo quantomeno, all'Italia, quindi non ha creato molti pericoli, a parte gli ultimi minuti che Abit Gore e un altro giocatore danese, insomma, stava per fare quasi quasi in 1-1, e metti caso che ti andava male, ti trovavi a pareggiare, quindi ad andare oltre il novantesimo minuto, contro una squadra che non ha fatto, fino a quel momento, mezzo tiro in porta, e sono particolari sui quali bisogna attentamente riflettere, mi stupisce che non sia stato schierato Longoni in porta, bensì sia stato messo Pessina, non lo so se comunque magari Longoni abbia potuto avere un qualche problema, ci può stare, ma secondo me Longoni è superiore a Pessina. Il resto, buona partita un po' di tutti, più attivo Kama sulla sinistra che Emanuel Benjamin sulla destra, Emanuel Benjamin, classe 2007 ovviamente, che è associato alla Fiorentina, perché sembra che i viola abbiano messo un pochino i radar, abbiano attivato i radar su questo terzino destro dell'Italia, ma comunque che militano i giovanini del Real Madrid, così quanto meno si dice in Brasile, perché lui è half brasiliano, diciamo così, e stiamo a vedere come andrà a finire, onestamente, io a Benjamin preferisco molto di più Noa Mikic della Croazia, ma questi sono gusti personali. Mi stavo anche scordando di dirvi che finita la partita, lo staff azzurro e i giocatori azzurri non si sono comportati come il Portogallo nel 2017, bensì si sono visti i membri dello staff che andavano giocatore per giocatore a complimentarsi e a sostenere gli sconfitti, idem i giocatori, soprattutto Orlandi e un altro compagno che non ha capito chi fosse, che gli sono fatti giro per giro i giocatori danesi, e singeli la mano. Quindi, da questo punto di vista, i giocatori portoghesi nel 2017, o quantomeno in generale il Portogallo nel 2017, dovrebbe un pochino prendere esempio. Quindi, complimenti ad Azzurri, perché sono arrivati in finale di Euro 2024, Under 17 a Cipro, e quindi, forza Italia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete visto la partita, vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie!